Almeno per il momento non c'è altra soluzione, un accordo di solidarietà per 887 lavoratori. I sindacati avevano chiesto di incontrare la direzione del personale Stellantis di Termoli per affrontare soprattutto i problemi delle aree maggiormente in difficoltà, quelle produttive legate all'unità motore FIRE. Le parti sociali avevano chiesto un uso più equo degli ammortizzatori sociali in un'ottica di rotazione e maturazione dei ratei e non solo. La riunione c'è stata. La fabbrica di Termoli è dedicata nello specifico alla produzione di motori endotermici per autovetture e piccoli veicoli commerciali tra i quali il motore FIRE che oggi non risponde più alle caratteristiche richieste per la commercializzazione e ormai vive un costante notevole periodo di riduzione della domanda. Per questo motivo è stato sottoscritto per tutti gli 887 lavoratori dell'unità FIRE il contratto di solidarietà. Uno strumento difensivo è una cassa integrazione che però ci garantisce la maturazione di tutti gli istituti come la tredicesima, ferie e permessi retribuiti anche non andando a lavorare. In questo modo facciamo sì che i lavoratori mantengono comunque un reddito un pochettino più alto rispetto alla tradizionale cassa integrazione e in più ci permette di coprire un arco lungo fino agosto del prossimo anno. E' uno strumento che partirà l'11 di novembre e terminerà il primo agosto del 2025. Purtroppo abbiamo l'area FIRE che ormai è in dismissione nel senso che purtroppo il motore FIRE non può essere trasformato in Euro 7 e quindi non risponde alle normative europee. Ecco perché questo strumento in questa fase ci può cautelare. I sindacati hanno poi fatto richiesta di incontri trimestrali per valutare l'utilizzo del contratto e l'andamento produttivo. Siamo determinati, fa sapere Stellantis, a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Si tratta di un percorso, ha aggiunto l'azienda, impegnativo che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate ma richiede unità di intenti e visione per accompagnare questa grande azienda insieme a tutti i suoi dipendenti nel futuro.